Ho chiamato il bracchetto, eh, daglielo tu, così fate pace. Da chi? Vieni qua, da qui. Alvin. Bracchetto. Alvin. Vieni qua, torbietto. Questi sono gli ultimi, eh. Uno a Leo, Leo. No, no, una cena di merda, basta. Vieni qua, eh, Leo, eh. Dai, donna, non si travi, salma, via. Ti puoi attaccare. Lillino, è finito. Lì. Bella questa. Eh, bravo, finito, eh, bracchetto. Cucu. Cucu. Cucu, vedi, cucu? Cucu. Mi sembra che questa faccia. Bella, va bene, ma. Vuoi te bere, bimbi? Sì, grazie. Puoi bere, tu? Volevo fare un canale, una pagina Facebook solo per Darwin. Ma come ti lo metti? Eh. Si sta sbagliando solo. Non è niente. Che bu? Volevo vedere che c'è niente cosa qua, Lillì. E poi che stavantina c'è una bella busta aperta. Chi? Ti devi inquinare. Chi è? Chi è? Ho detto, beh. No, no, mi devo chiesto stamattina. C'era i busti che mi hanno andato così. Lillì, fammi vedere che c'hai qua, Lillì. Lillì. Io chiami Lillì, quello si chiede... Vai in crisi come Leo. No, quello è il tuo obiettivo. Stai diventare come Leo. Non vedi che sta diventando molto più tranquillo? Eh? Eh. Dai quel nostro. Mi vuoi che chichizzare. Lillì, ma che chichico. Guarda che Lillì è proprio bello come noi. No, no, Lillì. Aspetta, devo far lavare un po' la tata mano. Tu non fare sempre il giro. Ti poi hai messo il pisellino sulla mano. Chi ti ha messo il pisellino? È lei. Perché ce l'ha? Io non so che era, ma cos'era. Che vuoi Lillì? Che vuoi Lillì? Lillì? No, Bracchetto Lillino. Ma chi è il tuo Bracchetto? Eh, Bracchetto Lillino. Chi l'ha chiamato Bracchetto? Eh, chichi chichi. Ti devo insegnare a David Bacchia. Vieni qua. Dammi un bacio. Che fai tu? Che cosa? Sei su stoppa? Vabbè. Poi presto qua al giorno. Ah, è amico, devi studiare. Vabbè, un giorno se lo può prendere oggi. No, 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 io studiare. Ci sono pochi giorni per due. Quando c'hai il prossimo. No, il prezzo. Ah, ok. Ah, brava, brava. Non ti preoccupare così. Facci. Perché ho smettere di leccare le lenti? Si capisce molto. Questa porta è pieno solo, la signora. È un infarto pure. Eh, ma penso tu che fa qualche giorno, ci resta secco. Chi è? Dai, ma, perché lei non ci vuole quattro. Si stanno pure accoppiando. Quello per cui l'ha andato. Pure coi volati. No, è pure guai è. Allora, tu. Eh, però vedi, almeno ha dato in là per una coltetta, visto che non stanno facendo niente. Fai la faccia di chi ha preso 28. Grazie. Grazie.